Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su SimCity Build It Allora ragazzi nello scorso video vi avevo detto che oggi avremo visto le nuove case latinoamericane E infatti è quello che faremo Inoltre ho dato ad alcune case la possibilità di farsi costruire Quindi le mettiamo subito Ho finito anche il ferro per fortuna ne sto producendo a pacchi in tutte le mie fabbriche Ma in questo video non volevo solo farvi vedere le nuove fabbriche Ma anche semplicemente provare a vendere materiali in più sia a queste offerte pop up che sul mercato Vediamo un po' possiamo anche pubblicizzare Metterei 4 di plastica che ne ho un bel po' a 100 via Qui che mi offrono No non te li do due martelli Raccogliamo questo ferro Qui vediamo come stanno venendo questi due grattacieli Ne possiamo mettere pure un altro Ok il primo è andato Anche il secondo Ci interessa da vedere solo questo Vediamo un po' come esce Ma ragazzi mentre si costruisce questo grattacielo Vi ricordo di mettere un bel mi piace E di iscrivervi al canale Perché No non c'è un valido motivo Però se volete farmi felice Iscrivetevi A me non mi dispiace Cioè non ci sputo sopra Intanto ho messo nelle fabbriche a produrre un po' di robetta interessante Lo so dal secondo a questo che è del terzo episodio Non ho fatto molta robetta off camera Però ho cercato Perché nello scorso episodio mi sono semplicemente dimenticato Di vedere delle case latinoamericane Non l'ho ancora vista E le volevo vedere insieme a voi Quindi spostiamo un po' di roba Non so quanto saranno grandi Io per sicurezza faccio un po' di spazio E ho pronto pure il grattacielo Vabbè grattacielo Palazzo Torre bruffoli Vabbè I nomi della gente Non ci facciamo caso noi Ok abbiamo sbloccato Casa del centro storico E zona latinoamericana Ok proviamole entrambe Allora iniziamo con una bella casa del centro storico Magari in una zona anche presa dai pompieri Quindi datemi un attimo che Uh altre tasse Datemi un attimo Abbiamo pure completato la missione Va bene Non posso parlare in questo gioco Vediamo Dieci sim cache mi pare che si chiamino E millesimo leon Bene che mi servono tantissimo Allora sto spostando un po' tutti gli edifici Per mettere le nuove case in una zona protetta dai pompieri Perché non c'ho voglia di spendere altri soldi Per quelle caspito di stazioni dei pompieri Non mi sembra proprio il caso Ok qua in mezzo ho fatto un bello spazietto Vediamo un po' casa Ma è gigante Ma è massodontica Ma è un fienile Non è una casa Proviamo a metterla tipo qua Ah ma è già costruita? Ah no vedi What? Il mio povero portafogli Sei il chiodi Ma stiamo scherziando No invece Invece di dire stiamo scherzando Quando ho detto stiamo scherziando Ma sono scemo Proprio un pirla Comunque qua si è prodotto tutto Mamma mia Sei i chiodi? Io quando me li faccio? Ma è una casa Ridotta un po' a pezzi eh Vabbè Vedo se riesco a produrre questi sei chiodi Sennò è un casino Ma sei chiodi dove? Ma dai Ma che scandola? Vabbè mettiamo questa zona latinoamericana Vediamo se almeno questa la possiamo già costruire Ok questa qui si Godiamoci questa prima casa latinoamericana Stile latinoamericana Penso Spero Vediamo un po' come verrà Eccola Carina Ma è tipo una villetta Spagnola Tipo di quelle che stanno in Spagna Uh grazie per il lucchetto Signore Ehm Specializzazione Paesaggi Vediamo un po' Ok Ah possiamo costruire un ponte Tipo qua c'è il lago Ah no Il ponte distrugge il lago Mi sembra giusto Grande lago Ma è tipo Abnorme 60 simcash Sì ciao Il lago 40 Niente mi sa che questi laghi non li mette Chiavi Perché questo lago Qui ci sono delle chiavi Spedizioni Scopriremo tutto più avanti Signori Tutto più avanti Vediamo qua 8 di plastica Te li do easy Qua che serve Ah Ok questa casa non è protetta dagli incendi Vabbè io comunque pensavo di espandermi Verso Le fabbriche Perché Mi sembra che c'è un bel po' di spazio libero Dal raggio di inquinamento delle fabbriche Fino alla città Eh La voglia Qua c'entrano altre due file di palazzi Quindi mettiamo la torre La torre dei pompieri La stazione dei pompieri Da questo lato Così che mille casi Può difendere anche le case Che si trovano Su tutta la linea Per farvi capire La linea è dietro la casa Stregata Casa del centro storico Vabbè Ah tra l'altro C'è Il signor Daniel Che andando nella sua città Dice Vendere roba A prezzi scontati Vabbè città Abbastanza umile La mia è quasi meglio Sì Guarda La mia città è molto meglio della sua Ma non si vede Sto Giorgiana Che prova a copiarmi Guarda Pure io la torre Eiffel Sì Sì La mia città è molto meglio Ma no Il castello di Disneyland Parì Ma queste cose le potrò costruire pure io Ma spero tantissimo di sì Ma sono Una figa L'aeroporto Le voglio anche io queste cose C'è un razzo O una supposta gigante O entrambe le cose Vabbè Vediamo che ci vende Uuuuh Questo buono Questo buono Questo buono E basta Una roba interessante È venuto a piovere Chissà perché Forse perché la sua città Fa schifo Quindi direi Andiamo Ce n'è come si fa Ah Con il tasto qua Uuu Hanno pure comprato La mia plastica Ok Questa fabbrica dorme No Tu non dormi Tu produci Vai Un po' di plastica Un po' di ferro No Se è di ferro Sono tutti quelli che ho Non te li posso Absolutamente dare E abbiamo un'altra casa Che volendo possiamo costruire Costruirei Un'altra casa Del centro storico Ma ci vuole un sacco Guarda Sei chiodi Come faccio Il ferro Eppure abbastanza Fattibile Però Ah tra l'altro Signori Guardate qui Se io faccio così Mi dice Quali case Sono delle semplici Abitazioni Case normali Quindi case di scarso valore In teoria E quali case Possono diventare Belle Case lussuose Quindi queste case piccoline In teoria Non lo so Quando cresceranno Diventeranno Delle case di lusso In teoria Perché vedete Questi grattacieli Che abbiamo per adesso Dove si vedeva Ah qua Sono tutti gialli Quindi case comuni Ma queste Quando cresceranno In teoria Non lo so Se sto dicendo Una boiata Pazzesca Dovrebbero diventare Case lussuose Quindi Speriamo Intanto qua Sono pronti altri materiali Ok Ho rimesso tutto A riprodurre Non pensate male Non si stanno riproducendo In quel modo Mettiamo Mi dissocio altamente Ovviamente Mi dissocio Mi dissocio altamente Da questa cosa Un po' di legno Abbastanza Dai Sì così Per adesso Va bene In teoria Cioè Uh qua si può Levere la parecchia E poi questa casa È venuta benissimo In questo palazzo Tre chiodi Oh mamma mia Ma cos'è Tutti fissati Con questi chiodi Tra poco sono pronte Le assi Per i chiodi Manca ancora un bel po' Però devo dire Che in questo video Non abbiamo fatto molto Oh ecco le assi Abbiamo solo Sperimentato Queste due nuove case E Teoricamente Basta Abbiamo levelappato Qualcosa Qua e la Però Penso che Potevamo fare Potevo Per colpa mia Potevo fare di più In questo video Ma Questo gioco Secondo me Sta in una fase Dove Bisogna aspettare Non c'è più molto Contenuto rapido Come nel primo episodio Che abbiamo fatto Tantissime cose Quindi secondo me Io dovrò giocare Un po' Off camera E aspettare Di poter Pubblicare un video Dove posso fare Tante cose Mettendo tante case In possibilità Di essere costruite Vedete Vedete ce ne sono un sacco Ma Richiedono Questa Solo del ferro Solo del ferro Che mi sta producendo Sì Vabbè Allora mettiamo a costruire Questa casa qua Comunque vedete Un sacco di case Che vanno costruite Ma richiedono Troppi materiali I chiodi Ci mettono Cinque minuti Per prodursi Sono un fottio Io in un video Non posso produrre Dei chiodi È un casino Quindi Li devo per forza Fare off camera Purtroppo Dal video Che avete Già visto in passato Il secondo episodio Non ho avuto Molto tempo Per fare cose Off camera Porco miserio Porco miserio Sono un ragazzo Impegnato Anch'io E non posso Fare tante cose Off camera Infatti Questo video È Un po' sciapo Uh Nuovo livello Allora mettiamo a costruire Due robette Insieme Nuova produzione Sbloccata I semi Ok Semi Bonus quotidiano Ah Mi danno anche Una roba quotidiana Vediamo un po' cos'è Eeeh Cinque chiodi È il dorado Ok Torna tra tre ore Per Riclamare un forziere d'oro Non li abbiamo mai aperti I forzieri d'oro Mi pare Vabbè Comunque siamo fortunati Perché ci manca Solo un chiodo Che sto già producendo Mancano ancora Due minuti Tre minuti In pratica E il ferro Che non è assolutamente Un problema Si produce molto facilmente E però Possiamo anche mettere Dei semi adesso A produrre Non so Come i semi Possano servire Nel costruire case Vabbè Lo sa il gioco Minchia Stanno venendo Dei signori grattacieli Guarda quanto sono alti Oh Signori Basta dai Vabbè Io non lo so Mi sa Guarda questo Questo qua viene alto Come questa Tenuta pole E guarda Stessa identica casa Cambia solo il colore E se vi state chiedendo Perché non sto Producendo Cioè Non sto mettendo A costruire Le case Che posso costruire Intanto ho messo Anche i semi 20 minuti Per dei semi Ma stiamo Scherziamo Comunque Mi manca Un solo chiodo E un po' di ferro Che non è un problema Sapete già Per Uppare la casa Del centro storico Quindi preferisco Aspettare Mettere quella in app Così faccio un po' Di content Tattico Tra l'altro Anche missione Completata Bona Bona E Vabbè Aspettiamo Quindi che si faccia Questo chiodo Cioè io aspetterò A voi farò Un taglio Per me passerà Un minuto e mezzo Per voi un attimo Quindi ringraziatemi Orca miseria Mi sono tra l'altro Accorto di avere 22 Pezzi di legno Quindi li metterei Subito in venti Solo 5 se ne posso mettere Ma scandolo Vabbè Mettiamone 5 A prezzo massimo Sperando che qualcuno accetti Non sono bravo A contrattare Lo so Prendiamo solo questo ferro Che è quello che ci serve Per la casa del centro storico Yeee Uh Grazie signore Per il lucchetto Molto gentile Da parte sua Ma signori Ma qua c'è tipo Un'insegna che si muove In basso a sinistra Cosa dice Ehi sindaco Ho esplorato il mondo E ho scoperto Queste fantastiche regioni What La gente del posto Vorrebbe aiuto Per costruire una città Posso avere due città Ogni regione Ha un'atmosfera unica Con una splendida Architettura residenziale Oltre che beni E servizi specializzati Regione attuale What Ah Ma devo arrivare Al livello 25 Per la prima regione Tu me lo dici così Vabbè Vediamo che missione Mi ha dato Mi dice di espandere Ah Toccare le nuvolette Del pensiero Dei sim 30 volte Questa vale Ovviamente no Ragazzi Il chiodo è pronto Andiamo a raccoglierlo E vediamo Come esce Questa casa Che minchia Mi è costata 6 chiodi Se non è la casa Più bella del gioco Io potrei sentirmi male Dai Guarda come mi mette Anzia sta casa Bella Bella Casa Lovenstein Ma è bellissima Signori Tra l'altro qua possiamo costruire con semplicemente due di plastica Mettiamo Andiamo a prendere un po' di ferro E poi mettiamo altri chiodi a produrre Che sono La base Sono utilissimi i chiodi Praticamente servono solo quelli In sto gioco No sto scherzando Non esageriamo Però sono la cosa Probabilmente fra le cose più utili Vabbè Devo produrre del ferro Per mettere altri chiodi Devo dire Bella casa Carina dai Solo che ci sta malissimo A fianco alla caserma dei pompieri Vabbè Qua che offerte mi fanno Sì Uno di legno Te lo do tranquillamente Ne ho tantissimo Semi non te li posso dare Ti sto ancora producendo Minchia 20 minuti per dei semi Ma come me lo dici Guarda com'è la casa Come si dice Casa Qualcosa Oh non mi ricordo Casa latinoamericana Quella qua Ma è bellissima A livello 2 Carina 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 La sposterei In un altro punto della città Perché qua in mezzo ai grattacieli Ci sta proprio malissimo Anche Sta casa Loewenstain La sposterei Però qua ci sono tutti i servizi Se no loro Mi scassano I maronzoli Ah possiamo anche costruire Metro a nastro Va bene Però ci serve Guarda ferro Ma guarda Ma qua Siamo ricchi Guardi qua Ah sono pieno Per questo Oh Nuovo livello Tra l'altro sono anche livello 8 Si Ma vediamo il nuovo livello della casa Qui Il dottor V Ne sta combinando delle Chi è sto dottor V Vegetali Nuova produzione sbloccata Mercato agricolo Ma che cazzo La mia vescica sta per scoppiare E vai nel cesso Che ne so io Ma No Mi ha sbloccato Probabilmente i water Non so Vedremo Impianto depurativo Ah Mi ha sbloccato tipo dei depuratori Ok ok Attenzione Vediamo intanto come viene questa casa Ma è gigante Ma quanto tempo ci mette Eccola Bellina Carina Ci sta ci sta Quindi dobbiamo occuparci anche delle acque reflue Adesso Vediamo un po' Vediamo un po' Governo Si acque reflue Minchia ho azzeccato pure la parola Ah Dobbiamo costruire dei tubi di scarico E inquinano No Porca miseria Questo 28 La nostra domanda è di 12 Io lo andrei a mettere qua Ci andrei a collegare Una bella strada No Perché me l'hai spostato Ma sei birra Ah non ci va Vabbè comunque uno è più che sufficiente Per adesso Quindi direi signori Che qua Visto che inquinano Possiamo metterci tutti i cosi delle acque reflue Si mi piace Mi piace come idea Raccogliamo gli ultimi materiali Qua non posso Vediamo che negozio mi ha sbloccato Il mercato agricolo E non è una buona idea Mettere il mercato agricolo Vicino alle fabbriche inquinanti Mettiamolo qua Vediamo un po' I vegetali Che richiedono Due Di semi Che ancora non posso fare Perché ci vuole un fottiglio Per produrre dei semi Quando mai si è vista questa cosa Vabbè Ecco che si è giunto il contenuto Che volevo al video Grazie gioco Sì 16 di legno Te li do proprio subito Mamma mia Ho finito tutti i soldi Raga Ma sto messo uno skiff Vabbè Ho bisogno di un bel po' di soldi Ovviamente 17 di ferro Per il nuovo livello della casa Della casa latinoamericana Abbastanza fattibile Però Il nuovo livello Lo faremo signori Nel prossimo video Perché adesso Mettiamo a produrre Tutte queste cazzatelle Mettiamole Ok Ragazzi Abbiamo fatto un bel po' di cose Raggiunto il livello 8 Sbloccato le acque replue Mamma mia Che scandalo qua dentro Ma è vicino al mare Io mi preoccupo un po' Non scaricate nel mare Fra l'altro che bel riflesso C'ha il mare di notte Che cazzo Che cosa è qua Steve No no Mi chiamo Steve Che è stato Il dottor V Questo è Oh Gli ha affondato la barca What Titanic Conferma Uh C'è una Un kraken Ma che caspito Sta succedendo Eh Dammi sta cassa al centro Cinque Ma che succede Cinque golem Tipo Boh Ah devo aprire tutti Una calamita Tipo un raggio mortale Ma che caspito What Devo liberarlo Con una Raggio restringente 3 di vita E 300 stelle Ma questo È tipo un minigioco E che caspito E che caspito È successo Eh Non sto capendo What Devo picchiare Questo Coso Poi Gli tiro la carta Addosso Gli è arrivato Un robot Ma cos'è Sto gioco Ma che lo sapeva Sta cosa E il kraken Ci muore No Regà Ma il video Sta durando un sacco Ma io sono scioccato Sta cosa Non la sapevo Questo Pensavo fosse un gioco Dove andava costruita La città Sta ancora Minacciando La nostra città A Steve è sempre piaciuto Essere al centro Dell'attenzione Ah Possiamo scatenare Dei disastri Nella nostra città Ma non lo voglio fare Ma no Ok Ah Dobbiamo consegnargli Degli oggetti E lui ci darà Dei megafoni Ok Però non urlare Ma what Non ho capito Regà Tutto questo Lo scopriremo Nel prossimo video Questo per fare l'outro Ho cliccato a caso Mi ha aperto una nuova storia All'olio shock Basito Ragazzi Tutto questo Nel prossimo video Perché per adesso Abbiamo fatto già abbastanza Ragazzi Quindi il video di oggi Si conclude qua Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi